E scontro in Sicilia tra le forze politiche per la decisione del governatore di applicare l'articolo 31 dello Statuto Siciliano che prevede tra l'altro un maggiore ed efficace utilizzo delle forze di polizia e dell'esercito presente nell'isola e gestire al meglio l'emergenza coronavirus. Ed infatti l'Aggiunta regionale ha approvato un DDL costituzionale, un solo articolo trasmesso all'Assemblea siciliana, spetterà poi al Consiglio dei Ministri e non alle Camere l'eventuale approvazione. Un parere dovrà esprimerlo la Commissione Paritetica Stato-Regione e poi la decisione di esclusiva competenza del Consiglio dei Ministri, quindi la firma finale del decreto da parte del Capo dello Stato. L'articolo 31 dello Statuto Siciliano prevede infatti strumenti necessari per affrontare con efficace tempestività eventuali situazioni di emergenza statali o limitati al territorio regionale che determinino refluenze sull'ordine pubblico, la sanità e la sicurezza nel territorio della regione siciliana o in parte di esso. La norma prevede che il Presidente della Regione, di concerto con il Ministro dell'Interno, si possa avvalere della Polizia di Stato e ove occorra delle forze armate di stanza nella regione, anche di concerto con il Ministro della Difesa. Durissime le reazioni dell'opposizione. Luca Sanmartino Italia Viva accusa musumeci di propagandismo spicciolo e su questo terreno abbiamo intenzione di non seguirlo. Musumeci governi la regione se ne è capace, non cerchi scuse ed alibi. Ed anche il Partito Democratico, per bocca di Antonello Cracolici, afferma non sappiamo se il nostro sistema sanitario è pronto per il picco che si attende per metà aprile, se il personale sanitario sarà messo in sicurezza con dispositivi di protezione e tamponi, se ci saranno ventilatori ed ossigeno per garantire la sopravvivenza dei malati più gravi ed invece il Presidente della Regione invoca l'esercito per le strade e la chiusura dei confini agli stessi siciliani. Evidentemente, conclude Cracolici, musumeci è appassionato all'idea di comandare eserciti e uomini in divisa piuttosto che governare la Sicilia. Immediata la risposta del Vice Presidente Armao, che sottolinea come il Governo della Regione non ha mai invocato poteri speciali ma propone le norme di attuazione sull'articolo 31 dello Statuto. Il resto sono solo sterili polemiche che provengono dallo stesso gruppo che non meno di una settimana fa ha sfidato il Presidente a emettere ordinanze proprio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto Siciliano. Armao ha istituito, infatti, d'intesa con l'Aggiunta regionale, una speciale task force senza alcun compenso per coordinare le misure finanziarie ed economiche necessarie a fronteggiare la crisi provocata all'emergenza coronavirus. Il team è formato dal Ragioniere Generale della Regione, dei Dirigenti Generale del Dipartimento Finanza, Programmazione e Attività Produttive e dalle Autorità di Gestione dei Fondi Europei Nazionali e dall'Autorità regionale dell'Indovazione Tecnologica, oltre che dal Capo di Cabinetto del Presidente Musomeci. Sarà Benedetto Mineo, già Capo dell'Agenzia Evertici di Equitalia, che avrà il compito di pianificare e monitorare lo stato degli interventi e rendicontare al Governo avvalendosi delle strutture tecniche regionale e dell'assistenza tecnica sui fondi disponibili nei vari dipartimenti.